Una delle novità che presentiamo a questa fiera è la nostra nuova app di integrazione, Urmet Secure. Con la Urmet Secure siamo in grado di trasversalmente integrare sia sistemi di antintrusione precedenti e degli anni passati, che quelli nuovi e quelli futuri. Tramite quest'app integriamo sistemi di antintrusione tipo il 1068, che è il prodotto di punta della Urmet, oppure prodotti di ponti incendio o dei sistemi di videosorveglianza. Tramite quest'app consentiamo all'utente di gestire al meglio la sua struttura e il suo edificio, sia nell'abito residenziale che in quello terziario, e siamo in grado di soddisfare e notificare in tempo reale e live tutte le informazioni possibili di questo sistema.